Donare il sangue. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il vicepresidente Avis zonale di Arezzo, Carlo Umberto Salvicchi dell'Avis, giustamente, perché Avis è sempre presente per quanto riguarda appunto le donazioni, no? Quindi come fare per accedere? Ripetiamolo ulteriormente. Dunque, diciamo per come è la situazione oggi dare indirizzi, numeri diventa difficile. No, Avis. Avis, Arezzo siamo presenti sui social, ovviamente, e quindi credo che sia oggi l'accesso più importante, basta andare su Instagram, Facebook, Google, noi siamo presenti ovunque, oppure come dire telefonare alla nostra sede che è sempre aperta. Mi piace sottolineare il fatto che pensiamo a tutto noi, nel senso che cerchiamo di sgravare il più possibile già l'importanza di uno che si vuole presentare come volontario. Nel senso che si contatta noi, noi provvediamo a dare un appuntamento per una visita propedeutica, perché naturalmente prima c'è una visita medica che garantisce la donazione, l'idoneità della persona. Ecco, quindi è molto importante. E dopodiché c'è un meccanismo ben oleato di appuntamenti e quant'altro che permette di fare la prima donazione e dopo diventa un piacere ogni 3-4 mesi, quando si ritiene opportuno, fare la donazione. Anche perché si viene guidati, anche nella tempistica, perché poi c'è delle variazioni anche tra il sesso femminile e il sesso maschile. Quindi sono tutte informazioni che poi al momento in cui si accede vengono date dai responsabili dell'Avis, anche perché l'Avis non è solo Arezzo, a livello nazionale, ci seguono da tutta la Toscana e di conseguenza anche nelle varie vallate. Ecco, certo, ma è anche importante il fatto che poi questo essere seguiti è garantito anche nel futuro per un controllo delle proprie situazioni medico-sanitarie, perché vengono fatte periodicamente analisi del sangue, elettrocardiogramma. Quindi, come dire, si fa del bene una donazione, ma si fa del bene anche a se stessi, nel senso che vengono garantiti quei minimi livelli di sicurezza che magari siamo tutti un po' pigri, non lo facciamo. Nelle varie testimonianze che abbiamo avuto qui da parte appunto di donatori è che a volte si sono scoperti un qualche cosa che non andava e subito si appresta a curare quello che non va. Esatto, si fa del bene agli altri e a se stessi. Quindi abbiamo detto che basta una chiamata, poi tutte queste cose, le donazioni vengono stabilite via via, però ecco il fatto stesso di come avviene poi. Si fa questo prelievo, so che si fa anche poi la colazione, offrite anche la colazione. Certo, certo, certo. Questo c'è un accordo naturalmente con la ASL che viene garantita una colazione e vengono dati degli appuntamenti, quindi si può, come dire, donare nel giorno che uno prevede. Quindi c'è la possibilità per i lavoratori dipendenti naturalmente per legge di avere un permesso per la giornata in cui si fa la donazione, quindi dipendenti pubblici o privati, oppure si può donare nelle ore che non si lavora, questo soprattutto per i lavoratori autonomi. Certo, uno lo stabilisce. Il sabato, diciamo, le possibilità sono molteplici, cioè è un vestito che viene cucito per tutti quanti, quindi non ci sono problemi in questo senso. Quindi c'è stato il covid e quindi le donazioni sono calate, però stanno riprendendo e la cosa importante che so che fate anche voi è di andare proprio nelle scuole per educare anche alla donazione, perché si può donare, mi sembra, dopo 18 anni, se non erro. Sì, esatto, esatto. Siamo presenti nelle scuole, siamo presenti nelle società sportive, siamo presenti nei quartieri della Giostra del Saracino, diciamo, cerchiamo di impegnarci per lanciare questo messaggio, perché poi è vero che la donazione del sangue è una cosa vecchia, però va sempre aggiornata, perché si pensa, vabbè, le generazioni cambiano. No, poi si pensa, di me non c'è bisogno, invece c'è bisogno di tutti, perché, un'altra cosa che è importante, si pensa che il sangue sia necessario quando accade un incidente. No, purtroppo esistono malattie e ci sono persone che hanno bisogno costantemente del sangue, quindi c'è sempre bisogno e dobbiamo sempre intervenire, non solo nei momenti di emergenza, non solo quando si pensa che possa essere più utile. Se si cadenza nella propria vita, che dopo qualche mese si procede in questa direzione, non fa male, anzi fa bene e si fa bene. Anche perché non tutti possono donare, no? Perché voglio dire, ci sono persone che vorrebbero donare e per qualche patologia che hanno non lo possono fare, anzi hanno bisogno, anche vedere persone che stanno bene, però hanno delle patologie di cui necessitano appunto di sangue. E quindi è importante, perché a volte si accede, dopo che si è avuto un'esperienza negativa come donatore, non aspettare questo sarebbe ulteriormente importante. No, può succedere, può succedere che questo avvenga. Se è una spinta, è importante, anche per quanto mi riguarda io. Ecco, la tua esperienza. Ecco, la mia esperienza. Io avevo cominciato a donare abbastanza giovane, poi per motivi anche di spostamento. Vabbè, gli studi, i lavori. Poi ho ripreso, ma quando ho ripreso, per me è stata molto importante una mia esperienza personale, cioè quella di mio padre all'ospedale, che ha avuto necessità enormi di sangue. Quindi quella è stata per me una scossa, ma guarda, in questo momento tuo padre ha bisogno di tutto questo sangue. Bisogna tornare a ridare minimamente, però per quello che si può fare, a ridare ad altri. È stata una spinta, però anche senza spinta si può fare. Eh certo. Perché questo è importante. C'è sempre bisogno, chi purtroppo ha avuto la necessità di visitare gli ospedali, di capire cosa succede, se ne può rendere. Anche perché nel periodo di Covid, e questo mi ricordo, anche se c'erano qualche intervento, a volte venivano rimandati perché c'era carenza proprio di sangue. Esatto, esatto. Quindi non è soltanto per chi ha bisogno di ciò, è proprio un circolo, no? Virtuoso possiamo dire, donare perché le sfaccettature in cui c'è necessità sono tante. Quindi il messaggio è questo, andiamo, telefoniamo all'Avis e avrai delle risposte importanti per poter cominciare un cammino che è un bel cammino, tra l'altro anche di socialità. Certo. Noi stiamo organizzando anche fra poco, dopo purtroppo il Covid, anche la festa sociale dell'Avis. Che non avevate ricorda. Che ci sarà perché non deve essere una cosa seria per forza. No, assolutamente. Si sta bene insieme, si fanno nuove amicizie e si fa del bene. E io ringrazio il Vice Presidente Avis Donale di Arezzo, Carlo Umberto Salvicchi. Grazie.